Buongiorno ragazzi, io sono già qui a Casal Guidi a aspettare i ragazzi di Toscana, Maremma Maiala e venerdì qui ai mille luci alle mie spalle faranno lo spettacolo Toscana, Maremma Maiala, aspetta di far vedere che rubina fanno da mangiare Oh vai, ecco Francone all'opera qui stanno preparando i picci, i famosi picci di Casal Guidi che a Cantarillo ci provonno ma gli sciuponno ai Santo Lavo Poi fecero un trogolaio ai San Baruto e Sera Valle un se ne fada nemmeno in questa ciocola vicchiana si va a rimestagnare questo piccio piccantino, pizzichente si va a prendere una pugnalata di picci alla paprika e si va a rimestagnare una bella guantata con le mani, d'altronde la mano gli va a dare quel calore umano che gli fa bene anche quella fermentazione naturale attiva c'è tanta gente che non va di corpo, diciamo già un po' estitica no? e allora gli ha bisogno di medicina medicinale per andare a cacare quando invece tu puoi mangiare una bella spaghettata di picci proprio alla Casal Guidi, proprio alla Casal Guidi esidese e gli fa buono perché dopo tu vedi come tu vai a corsa ai Cairo senza aver bisogno di tante medicinali questa è la pancetta messa a crudo sopra, vedi una bella spenn... è come per noi formaggio a Casal Guidi gli mettono la pancetta gli mettono il cicciolo sopra lo spaghettino e la famosa lattughina presa rigorosamente su Pei San Baronto oh raga, vada il panino me l'ha presa che mi ha bestia e ha detto mi fa un paniaccio che sennò cos'era d'accanto, vada, oh, ci siete venerdì ci siete venerdì venerdì 22 novembre al mille luci di Casal Guidi Toscana Maremma Maiala Show street food organizzato dal Vithium carpenteria primitiva con musica dal vivo e Toscana Maremma Maiala Show spettacolo comico e si consiglia la prenotazione e poi, e se è mai chiuso è un sanno all'aperto, eh mi raccomando, se è mai cardo bucaioli, mi s'aspetta? bucaioli, mi s'aspetta